Un cordiale saluto a tutti amici, benvenuti su emigliameteo.tv. Come previsto una figura di alta pressione si è instaurata sul bacino del Mediterraneo e sta facendo sentire la sua positiva influenza anche a gran parte d'Italia. Tuttavia non è un'alta pressione particolarmente robusta, già nei prossimi giorni deboli infiltrazioni d'aria umida contribuiranno alla formazione delle nebbie e delle nubi basse, ma ci sarà poi anche qualche annuvolamento un po' più consistente che non riguarderà solo le aree di pianura come nel caso delle nebbie e delle nubi basse, ma coinvolgerà sicuramente anche molte aree della fascia penninica, dunque insomma un tipo di tempo che è destinato a tornare grigio un po' per tutti con anche occasione di vedere qualche debole pioggia, non esclusa nei prossimi giorni. Questo trend probabilmente ci accompagnerà fino alla giornata di mercoledì-giovedì, poi tra venerdì e sabato torneremo a vedere forse anche un po' di sole in attesa di una perturbazione che se tutto verrà confermato verrà ad interessarci nella seconda parte del prossimo weekend. Avremo modo di aggiornarci, tenetevi aggiornati visitando anche il nostro sito web all'indirizzo www.emigliameteo.tv Per adesso è tutto, a più tardi!